questo video è stato gentilmente sponsorizzato da Yeppoda Yeppoda è un brand di skin care coreana che io uso sulla mia pelle da tantissimo tempo oggi in particolare ti mostro questo prodotto di D-Buff Ice Espresso sono dei patch occhi biodegradabili alla caffeina e tè verde che sconfiano gli occhi in soli 15 minuti ce ne sono rimasti pochissimi e per farti capire quanto li utilizzo e quanto io ami questo prodotto è già il terzo coccetto che finisco perché mi viene da usarlo proprio quasi tutte le mattine per illuminare, per svegliare, per sconfiare il mio sguardo la mattina te li faccio vedere da vicino tra l'altro quanto è bello il pack le applico così tenendoli in frigo hanno anche questo effetto super rinfrescante che la mattina ti rigenera questi patch contengono anche estratto di liquirizia che combatte l'iperpigmentazione e il mix di calendola, tè verde e caffeina idrata in profondità e quindi aiuta anche con i primi segni dell'invecchiamento ovviamente io mi ero già detersa il viso e adesso vado ad usare questo tonico si chiama The Mist che come vedete sto usando fino all'ultima, ultima goccia anche questo da una sensazione di freschezza troppo bello applicarlo solo tra l'altro in questo periodo in cui inizia il caldo contiene acido ialuronico quindi lascia la pelle bella idratata e si può usare anche per fissare il trucco la adoro, 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 adoro vado ad usare il siero del Repair Hero che contiene niacinamide e che mi aiuta a mantenere la mia pelle uniforme e con meno imperfezioni The Make My Day Cream questa mi piace molto perché idrata bene, si assorbe super velocemente ma è leggerissima sulla pelle non è una crema pesante che risulta pesante sulla pelle ho anche un codice sconto per voi che è ASMR D-Puff ve lo lascio ovviamente scritto anche giù in descrizione insieme al link di Yeppoda spero che questi prodotti vi abbiano incuriosito e ringrazio ancora Yeppoda per aver sponsorizzato questo video e adesso passiamo al video ciao 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 grazie di essere qui 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 come oggi 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 torna a un video che mi piace tanto che è il dormirai in dieci minuti ma in realtà se vuoi ne hai molti 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 di più per dormire anche io amo tanto tirare i video di questa tipologia e quindi appunto proprio a farti addormentare e chiudere gli occhi in dieci minuti poi quindi ogni tanto partirà un chiudi 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 chi continuously chiudi due splendidi, 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 splendidi occhietti iniziamo il nostro relax è il nostro momento per noi accendendo una candela come al solito sapete che è il mio momento riferito è una nuova candela per voi l'ho comprato proprio pensando è perfetta per il canale è una candela fatta artigianalmente da una ragazza alla mia città con questo topo che si sfida e ha un odore fruttato, è super rilassante ha note di mango, polpemmo e arancio amaro è un perfetto mix di queste tre senti benissimo il mango e il pompelmo è tipo la buccia d'arancia ti faccio annusare ti faccio annusare gli occhi annusa prendi un bel respiro e come vedi anche questo stoppino che fa un suono stupendo ci faccio annusare e come vi faccio annusare non è un po' di nuovo perché è un po' di nuovo non è un po' di nuovo del ligno che brucia io non rinuncio alle candele neanche d'estate mai, mai, le amo ok quindi appunto l'ho presa con questo stoppino apposta per farvelo sentire che bello, un po' si sente adesso lo lasciamo per le tre minuti ma lo vado a spegnere perché magari a qualcuno non piace questo suono però intanto lo faccio sentire di sottofondo mentre faccio un po' di soffio un po' di soffio fresco perché ormai sta cominciando a venire il caldo 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 oggi per te fra le altre cose ho anche un suono nuovo con un nuovo oggettino mi piace da mattino l'ho ancora provato con i microfoni quindi ringraziamo il dito speriamo ci piaccia chiudi gli occhi chiudi, 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 chiudi gli occhi e spegniamo la candela cominciamo subito da suono nuovo cominciamo subito da suono cominciamo subito da suono in realtà in realtà avevo pensato di farlo così un po' più forte però in realtà anche così mi piace un sacco di 2.000 commenti se vi piace e ovviamente se vi piace questo tipo di video e questo video non dimenticate di mettere un bel mi piace e di lasciare anche un commentino di supporto un guaduoro un po' più forte vi faccio vedere che cos'è è una pallina per massaggi l'ho trovata a casa di mia madre, secondo me poi gli hanno regalato un albergo, non lo so si vede che è nuova perché è super pulita prova sul tuo viso, guardiamo, carino, che strano questo effetto molto carino che bello guardiamo 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 Grazie a tutti. 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 Ma guardate com'è tutto affinato a farò. Allora, e di questi adoro suono intanto... ... 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 è tuttoricamente sperimentale a me piace tantissimo il trigger in cui si sussurra una canzone quindi si sussurra ma ha tempo io un pochino cantando e in particolare delle canzoni un pochino ritmate e ancora meglio se in inglese io amo questo trigger tantissimo e voglio provarlo con voi in particolare non so se l'ho mai detto ma io amo Megan Trainor da sempre della sua prima canzone e l'ultima sua canzone uscita si chiama Being Like This e l'andrà a cantare in un whispering un pochino più lenta della canzone classica però non so mi piace tanto come trigger quindi andrò solo a censurare una due forse piccole parole però di cui una nella prima frase ok oh sì she got the booty the type of pom-pom the best that I like I said oh me it keep it juicy super hold on hold on for dear life oh gosh she's cute she's classy big bold and sassy she knows what she do when she moves she moves I know it's hard to imagine but why keep you asking like all this came out of the plan but I've been like this I've been like this from your mouth but on your lips and nothing you're still a bitch cause I've been like being like being like this I've been like this been like this take your shots one of the walkies and nothing you still do cause I've been like been like been like this cause you are doing it just the way I like And you can pull me. I know exactly what I wanted to do with me. And maybe you're just gonna make me up on this fine. We're going right first to have your hands all over this edge. Don't stress baby just that's the way I am. Dripping over these crammies but no need to stand when the reservation got levitation puzzle. We're going okay. Cause I'm being like this. I'm being like this. You talk to smart but on your lips. I got money to do this because I'm being like being like being like this. Said I'm being like this. Me like this. You talk to smart but on your lips. I'm nothing new. Just me and mine. Cause I'm being like being like being like this. I'm a popster. I'm a wifey. But I'm not experimenting if you like me. Not a thing you do inside me. I'm going to give me a bit spicy. Oh, you do the most. Oh, darling. You must be accepted. Obsessed with me. You like me, like me, like me, like me. But I'm being like this. I'm being like this. You talk to smart but on your lips and nothing new. Still me and mine. Cause I'm being like this. I'm being like this. I'm being like this. I'm being like this. I'm talking to smart but on your lips and nothing new. just me and my because I'm gonna be like, be like, be like this and nothing new just me and my because I'm gonna be like, be like, be like this potevo scegliere una canzone con un testo un pochino migliore a me piaceva proprio come suonava il ritornello pare be like this, be like this piaceva? ha detto che oggi è un video un po' sperimentale e io sono completamente fissa con questa canzone fissa, fissa fissa, l'ascolto il giorno e notte, la balle in continuazione passiamo quindi un trigger che non faccio da un sacco in questo zittà fissa 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 grazie a tutti grazie a tutti il verso che avete appena sentito quello di un fagano e lo conosco solo perché avendo un cane da cazzo lei ci impattisce dietro grazie a tutti 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 grazie a tutti